Abbiamo un Alfonso Signorini veramente in grande spolvero, super pronto già per la nuova edizione del grande fratello, che sì, lo so, manca tantissimo, ma lui già è pronto, quindi già se ne può parlare. Ha raccontato tutto durante una delle sue dirette Instagram, mentre continua intanto il chiacchiericcio generale sulla vittoria di Nikita Pelison durante l'ultima edizione che abbiamo seguito. Una vittoria che è arrivata soltanto per una questione d'immagine, così si dice ovviamente, e Mediaset doveva ripulirsi per il marcio di questa edizione. Oriana Marzoli e Tavassi, i veri protagonisti e vincitori? Ma questo può essere un altro discorso. Tutto studiato a tavolino da autori, conduttore e piani alti. Gli spartani erano più del 70%, i conti non tornano. Un consiglio, state lontani dai social. Alcuni si stanno bruciando da soli condipendenza social. La vita vera è fuori, non sui social. Disintossicatevi. E ancora, complimenti a Tavassi, a Oriana, a Micola, a Luca, che hanno portato se stessi, simpatici, ironici, divertenti, non si sono mai tirati indietro, hanno detto sempre la loro, non si sono risparmiati, forse alcune volte un po' duri e troppo diretti. Per un pubblico che vuole vedere sempre le vittime e cercano carnefici. Ma va bene così, perché comunque nel bene e nel male si è sempre criticati, ma almeno, voi siete stati voi stessi. Non ancora chiuso il dibattito sul GF VIP 7 Alfonso Signorini, come detto, prepara una nuova edizione. Riporta Bixi.it come sia tornato a rispondere alle domande dei follower tramite l'apposito box di Instagram. Fra curiosità personali, il conduttore del grande fratello VIP ha risposto anche a due frecciatine oltre che ad una serie di domande. Il concetto che Signorini non dice, prima che qualcuno straparli è meglio che sia io a dirvelo. Perché sei così simpatico sui G e insopportabile quando conduci il GF? Gli ha chiesto un lettore. Non lo so, se è questo l'effetto mi dispiace, io sono sempre lo stesso. E ancora, la prossima edizione del GF spero sia fatta di persone comuni e non sia tu il conduttore, grazie. Riferirò a chi di dovere, prego, ha risposto. Spero che da ora in poi il GF non duri più di tre a quattro mesi per preservare la salute mentale dei concorrenti, gli hanno scritto. E anche la mia, ha concluso lui. Sono vere le voci di un prossimo GF senza VIP? Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo GF. Vi terrò comunque aggiornati. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.